Da un'idea del direttore artistico del Lente dei Carolis, Alberto Gazzale, è tornato il consueto appuntamento alla scoperta dell'opera, in questo caso Tosca, che debuterà al Teatro Comunale di Sassari nel centenario pucciniano il primo novembre, apprendo di fatto la stagione lirica autunnale. Un modo per coniugare l'epin musicale, il racconto degli artisti protagonisti, con la curiosità che i sassaresi coltivano per i luoghi solitamente chiusi al pubblico. Stavolta la cornice è stata l'ex colone campestre, storica palazzina Liberti recentemente ristrutturata e salvata da decenni di abbandono e vandalismo. Un rudere quindi rinnovato che il pubblico ha potuto esplorare per la prima volta, compresa l'antica cappella che è stata a suggestivo teatro dell'incontro e che rievoca lo scenario del primo atto di Tosca che si svolge in una chiesa, quella di Sant'Andrea della Valle a Roma. Abbiamo un grande cast, abbiamo un grande direttore, un grande regista, l'allestimento bellissimo, abbiamo tutto impreziosito da queste pitture di Giovanni Gasparro, che è forse il pittore italiano, pur essendo giovane, ma è un grande artista del contemporaneo e quindi siamo fiduciosi in un buon esito. Sono contento innanzitutto del cast, che sono grandi voci, ci stiamo impegnando, è una settimana che lavoriamo da mattina a notte. Il cast è pronto a dar vita al celebre melodramma ottocentesco in tre atti e composto di eccezionali interpreti. Il soprano Marta Mari, una delle voci più belle al mondo, interpreterà la cantante Floria Tosca. Il baritono sardo di fama internazionale Marco Caria sarà invece il barone Scarpia, mentre il pittore Cavaradossi sarà impersonato dal tenore georgiano Otar Gioricchia, che aveva ricoperto lo stesso ruolo alla prima della Scala di Milano del 2019. Lo spettacolo andrà in scena il primo, il 3 e il 5 novembre.